Da segnalare una aggressione nei confronti della troupe di Striscia la notizia L'aggressione si è verificata sabato in provincia di Benevento, ci troviamo in Regione Campania a Puglianello Un operatore stato soccorso al 118 trasportato in ospedale Moreno Morello, inghiato di Striscia, si sarebbe legato nel sannio con la troupe Per realizzare un servizio, diciamo così, su una persona che sarebbe finita più volte nel centro del mirino proprio di Striscia la notizia Per quanto riguarda i fondi raccolti e destinati all'Africa La troupe, quando è accorsa o meglio arrivata in paese dove c'era una manifestazione, sarebbe stata immediatamente aggrita Dapprima solo a livello verbale, poi però si è passati alle maniere forti Addirittura faccio sapere a tutti voi che a uno degli operatori di Morelli, Moreno Morelli ovviamente Sarebbe stato scagliato un calcio piuttosto forte, tanto che è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Questi ultimi lo hanno trasportato all'ospedale Rummo di Benevento dove è stato controllato e ricevuto anche le relative cure Secondo quello che si apprende dalle ADN Cronos, gli agenti del commissario di Polizia di Terese Derme Che sono intervinto in luogo, hanno già preso a verbale diverse dichiarazioni E ci sarà la valutazione nelle prossime ore per eventualmente contestare dei reali Diciamo così, eventuali reali Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua Fatemi sapere cosa ne pensate, un cordiale saluto a voi Vitaliano, l'alias da vostro narratore italiano di Youtube Italia Vicinanza a Moreno Morelli, la troupe Per quello che è successo, questo video non vuole leggere la parola di Morelli né della troupe Per favore